Cristian Fanesi, perché continuare a darvi fiducia? In questi dieci anni abbiamo lavorato con concretezza per rendere questa città più bella, più vivibile, più accogliente. Abbiamo lavorato non solo con i 340 milioni di euro investiti in nuove opere pubbliche, ma abbiamo investito anche nei servizi alla persona, nei servizi sociali, nei servizi educativi, rendendo questa città anche più forte dal punto di vista sociale. Non vogliamo lasciare nessuno indietro e vogliamo guardare al futuro con ottimismo. L'ottimismo che ci arriva dallo studio, dall'essere informati, quell'ottimismo che serve a una città per continuare a crescere. Noi siamo il centro-sinistra di Fano, noi immaginiamo una città moderna, aperta, noi immaginiamo una città europea che è al passo coi tempi. Noi, centro-sinistra di Fano, vogliamo rendere questa città ancora più bella e ancora di più il posto migliore dove vivere. Con me, con noi, il centro-sinistra, vinceranno i fanesi. Stefano Marcheggiani, perché sostenere lei e la sua coalizione? Votare Stefano Marcheggiani sindaco significa votare una coalizione che presenta liste molto qualificate di donne, di uomini e di giovani che possono mettere al servizio della città le loro competenze. Abbiamo un programma che abbiamo raccontato in giro in un'appassionante campagna elettorale, un programma che vuole una città che non abbia paura del futuro, inclusiva, che guardi con fiducia all'innovazione, alla ricerca tecnologica, alla creatività che tanto ci contraddistingue, perché era anche posto di lavoro per giovani. La difesa della sanità, la difesa di ASET come patrimonio della città, in una logica di alleanze industriali che possono garantire il massimo della felicità futura di questa città, e poi la protezione anche di servizi come lo sport, che deve rappresentare bene le eccellenze competitive della città, ma anche la diffusione di questa meravigliosa attività tra i giovani. Vogliamo un palazzetto dello sport che sia utile anche alla congressistica. Luca Serfilippi, perché i cittadini dovrebbero scegliere lei e i candidati della sua coalizione? Innanzitutto mi auguro che scelgano, perché è importante andare a votare sabato e domenica, un appuntamento importante con la storia della nostra città. Come coalizione per FANU siamo uniti, abbiamo un programma condiviso con tutti i quartieri della nostra città, un programma realizzabile e fatto di proposte concrete che abbiamo spedito in tutte le case dei nostri concittadini fanesi. L'abbiamo presentato, abbiamo veramente fatto un grandissimo lavoro di squadra, dai bambini ai giovani, gli anziani, le famiglie dovranno tornare al centro delle nostre politiche che riguardano tutta la nostra comunità. Bisogna guardare al futuro con speranza. Io mi auguro veramente di aprire una nuova stagione politica nella nostra città, perché FANU merita veramente di tornare a correre e di sognare in grande. Per farlo c'è bisogno di competenza, passione, entusiasmo. Io penso di avere le caratteristiche per farlo, vista la mia giovane età e la mia esperienza politica.